L'associazione Confesercenti ha organizzato nella sala consigliare del comune di Chioggia una conferenza stampa per presentare il progetto finanziato dalla regione Veneto verso il turismo del benessere, sport, wellness e mangiare bene. È un ambizioso progetto per creare reti d'impresa tra le aziende che operano nella filiera turistica del Veneto per realizzare un sistema turistico Veneto strutturato e coordinato che permetta di creare innovazione nei servizi turistici, migliorare la qualità dell'offerta turistica regionale e valorizzare le peculiarità dei vari territori. Beniamino Boscolo Capone di Confesercenti ci presenta nel dettaglio questo progetto. Siamo con Beniamino Boscolo di Confesercenti, un progetto importante che porta a Chioggia una sorta importante che è la formazione, fondamentale per far crescere un comparto turistico che ormai sulla formazione ha sicuramente uno dei valori fondamentali. Verso il turismo del benessere, sport, wellness e mangiare bene. Questo è il titolo del progetto che la Regione Veneto ha approvato alla Confesercenti attraverso l'ente bilaterale Veneto per portare anche a Chioggia oltre che nel Veneto delle risorse indispensabili non solo per la formazione che è di tutta utilità ma anche per l'acquisto di attrezzature, assunzioni con incentivi e viaggi all'estero finanziati per fare un'esperienza di studio ma anche di lavoro guardando le altre realtà che sono le migliori magari in particolari settori del turismo. Abbiamo sentito che proprio in questo senso guardare all'esterno a volte può essere anche una bella risorsa per poter imparare e portare delle idee, insomma a questo punto sviluppare comunque un progetto originale per la nostra città diventa fondamentale per proporsi sul mercato, originale e coordinato. Agire locale e quindi agire è fondamentale ma pensare globale è indispensabile oggi su un mercato che è quello del turismo in cui da tutto il mondo vengono in Italia, a Chioggia abbiamo in particolar modo della clientela nazionale italiana e quindi dobbiamo guardare anche altri fetti di mercato anche perché con un Veneto che è la prima regione d'Italia come turismo, con Venezia la provincia che è la prima provincia del Veneto per quanto riguarda il turismo che quest'anno è migliorata di 10 punti rispetto all'anno scorso, troviamo Chioggia che invece è peggiorata di un punto sia sulle arrivi che sulle presenze e quindi Chioggia inserita all'interno di un circuito Veneto per cercare di erodere fetti di mercato anche agli altri a livello nazionale e internazionale. Sono intervenuti alla conferenza stampa anche l'assessore al turismo e sindaco di Chioggia Giuseppe Casson, il presidente APT di Chioggia Lucio Carisi, il direttore di Confesercenti provincia di Venezia Maurizio Franceschi, il direttore dell'ente bilaterale Veneto Marco Palazzo e i presidenti di Jebis e Cisacampin di Chioggia Fabrizio Boscolo e Luciano Serafini. A chiudere gli interventi l'assessore provinciale al turismo Giorgia Andreuzza che ha messo in evidenza la rilevanza della voce turismo nell'economia veneta e di come bisogna crescere continuamente di competitività lavorando molto sulla formazione e sulla creazione di reti di imprese. Siamo con l'assessore della provincia di Venezia del turismo Andreuzza, allora una giornata importante per la formazione che è sicuramente uno degli argomenti cruciali per far crescere il turismo. Ma è assolutamente importante soprattutto perché è vero che noi in provincia di Venezia quest'anno abbiamo ottenuto dei numeri da record, però questo non deve assolutamente farci rilassare perché i nostri competitor a livello internazionale stanno ovviamente lavorando. per cui la formazione serve anche a migliorare quello che è il nostro approccio culturale per cui a lavorare in rete perché sulla rete c'è la chiave diciamo di successo per superare la crisi. Penso che Chioggia abbia davvero buone possibilità, possa essere ambiziosa per raggiungere degli importanti risultati. Si parla di una località molto grande, la più grande dopo Venezia per la nostra provincia dove assieme a città d'arte possiamo avere un ambiente naturale bellissimo come la laguna, il mare, i prodotti enogastronomici per cui si può davvero parlare di promozione integrata. A questo ambizioso progetto da quasi 200.000 euro, arrivato primo su 209 progetti approvati in regione per un importo complessivo di 6,6 milioni di euro, parteciperanno 48 aziende ed 8 partners da tutto il Veneto. La maggior quantità di adesione arriva proprio da Chioggia e Sottomarina con 22 aziende e due partners. Le fonti del finanziamento del bando sono il Fondo Sociale Europeo, l'FSE, che fornirà le risorse necessarie per finanziare interventi di formazione tradizionale non, interventi di accompagnamento, eventi e viaggi studio all'estero. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il FESER, che rimborserà la quota di un anno di ammortamento di acquisti e investimenti per nuovi macchinari e attrezzature, regati all'innovazione. Il programma operativo regionale POR 2007-13 con obiettivo competitività regionale e occupazione, che finanzierà da 2 a 6.000 euro una nuova assunzione a tempo indeterminato o determinato per minimo di tre anni.